Così voi farete, il nostro campo nobadi del cazzo sarebbe capito no? Ghiacca carentumenge, tu mero romano campo. Che cazzo è? C'è stata la televisione. Con la forza dell'energia c'è stata la televisione. E poi il cibo, questo è proprio... Allora, io la ripeterei poi tutta insieme, ok? Ghiacca carentumenge, tu mero romano campo. La prima, Ghiacca carentumenge, sarei normale, normale. Ghiacca carentumenge, tu mero romano campo. E lo sfottare va lì, bravo. Ghiacca carentumenge, tu mero romano campo. E poi questo Ghiacca carentumenge, tu mero romano campo. Ghiacca carentumenge, tu mero romano campo.